Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video! Oggi sono qui per parlarvi di un caso che a me ha messo un tantino all'inquietudine. Anche se avvenuto in un campus universitario della Carolina del Nord, non ho potuto evitare di pensare diamine ma neanche alle università si è al sicuro? Sì, per carità, so benissimo che ci sono tanti casi italiani simili in cui due le studentesse hanno perso la vita e tratterò sicuramente anche quei casi, ma in questo caso si parla di campus universitari, non solo di università. E questo in effetti è un crimine che ha sconvolto una comunità universitaria. Siamo a Chapel Hill, nella Carolina del Nord, ed è il 7 settembre del 2012. Quello non è un giorno qualunque, bensì è il primo giorno del semestre autunnale all'università di Chapel Hill. Una studentessa rientra nel suo appartamento e ritrova la sua coinquilina nella sua camera da letto. È posizionata con le gambe che vanno verso il cuscino. La testa è coperta dalla sua stessa t-shirt ed è senza vita, immersa in una pozza di sangue. La studentessa che trova quel corpo chiama immediatamente il 911 e le lacrime dice Mi chiamo Carina, mi scuti, sono sconvolta, c'è sangue dappertutto ma non capisco da dove provenga, non riesco a credere ai miei occhi, c'è sangue ovunque, anche sui cuscini, sul piumino, non so cosa sia successo. L'operatrice del 911 cerca di calmare Carina dicendole Va tutto bene, calmati, ma dimmi una cosa, respira ancora? Carina risponde No, non penso io... L'operatrice continua Il suo corpo è caldo? Carina di nuovo risponde No, non è caldo, è freddo. L'operatrice a questo punto dice a Carina Ok, ho capito, tu mi raccomando, non toccare nient'altro, d'accordo? Quella è una scena del crimine, esce dalla stanza e aspetta l'arrivo dei soccorsi. Carina quindi esce dalla stanza e attende che giunga sul luogo la pulizia di Chapel Hill che arriva circa otto minuti dopo. Gli agenti si rendono immediatamente conto che quella stanza è stata teatro di un vero e proprio massacro. Poi notano il corpo di una giovane donna e senza vissiti dalla vita in giù. Indossa una t-shirt nera che le è stata tirata su fino a coprire il viso. E quando gli agenti abbassano la t-shirt rimangono scioccati da ciò che vedono. Guardando lo stato in cui si trova la vittima, per le autorità è presto chiaro, sia stata, ahimè, picchiata in modo terribile. Ha due lividi viola intorno agli occhi, i capelli sono incrossati di sangue e ha una profonda ferita sulla fronte. La polizia quindi interroga immediatamente Carina Rosario, ossia con lei che ha chiamato il 911. Carina dice che la ragazza, sul letto non più in vita, è la sua coinquilina e migliore amica. Si chiama Faith e ha 19 anni. Faith Eggpet nasce il 26 settembre del 1992. Ad Hollister, una piccola comunità popolata da nativi americani della Carolina del Nord. Roland e Connie sono i suoi genitori e la amano profondamente. Suo padre la descrive come la creatura più bella che abbia mai visto. Non solo perché è suo padre e tutti i padri vedono il proprio figlio come il più bello del mondo. Certo, Faith è una bella ragazza, ma Roland, suo padre, sottolinea che la sua bellezza è soprattutto interiore. Connie, la madre di Faith, ha un ottimo rapporto con la figlia. Sono molto legate, ma soprattutto Faith è sempre stata una brava ragazza, con la testa sulle spalle, che non ha mai dato problemi ai suoi genitori. È una ragazza di buon cuore, Faith. Socievole e intraprendente. Ha tantissimi obbi diversi, ama fare tante cose, ma soprattutto... Faith ama studiare, ha sempre amato studiare. Faith, da sempre, è un'ottima studentessa. Infatti l'università per Faith non è mai stata un problema. Perché è molto intelligente, ottiene molte borse di studio, aspira a diventare pediatra, vorrebbe lavorare con i bambini. Questo è il sogno di Faith. È il 2010 quando Faith si trasferisce a 130 km di distanza per iniziare a frequentare l'università di Chapel Hill. Faith è una ragazza socievole, questo vuol dire che non ha problemi a stringere amicizia. Infatti, la sua prima amica la incontra casualmente mentre sta entrando in classe per la prima lezione dell'anno. Si chiama Yuna Cevis. Faith, per Yuna, diventa molto importante in poco tempo. È una ragazza che riesce a mettere a suo agio il prossimo, anche solo con un sorriso. E Yuna, grazie a Faith, riesce a migliorare un lato del suo carattere che proprio non sopporta. L'insicurezza. Yuna, tramite Faith, riesce a far sua molta sicurezza. Faith le sta vicino e le dice che è brava, che non deve buttarsi giù. E di Yuna, in un certo senso, si sente compresa, capita. Sente proprio di aver vicino un'amica sincera che la sprona a migliorarsi. Faith, comunque in generale, ha una vita sociale molto attiva. E tutti quelli che la conoscono sostengono sia una persona estremamente gentile, che mette sempre gli altri al primo posto. Ora però, torniamo al tragico fatto. Come vi ho già detto, è il 7 settembre del 2012. E questa è una giornata terribile che i genitori di Faith ricorderanno per sempre. Infatti, Connie, la madre di Faith, è a lavoro. Quando una delle sue responsabili le dice di chiamare la polizia di Chapel Hill. Proprio per sapere qualcosa su Faith. Ovviamente, Connie chiede spiegazioni. Perché mai dovrebbe chiamare la polizia per avere informazioni su sua figlia? La sua responsabile le risponde. Connie, a me dispiace dirtelo così. E a dirla tutta non dovrei neanche essere io a dirtelo. Ma Faith non c'è più. Connie è incredula ed esclama. No, ma sicuramente ti sbagli. Io lo so, Faith sta bene, non è possibile che non ci sia più. La sua responsabile quindi guarda la donna triste e le dice Connie, mi dispiace, ma questa è la verità. Come potrei raccontarti una bugia? Connie quindi chiede, ma che cos'è successo? La sua responsabile le dice che nei particolari non sa nulla. Connie scoppia in lacrime. Chiama suo marito Roland e, ansioso di far chiarezza sull'accaduto, salgono in macchina e si dirigono a Chapel Hill. Ci mettono all'incirca un'ora e mezza e una volta arrivati vanno direttamente all'appartamento di Faith e di Karina. Ma notano che la polizia ha già messo tutti i sigilli. Così Connie chiede ad un detective di entrare per poter stringere per l'ultima volta la mano a sua figlia. Ma i detective dicono ai genitori di evitare di vedere il corpo visto le condizioni in cui si trova. A Connie e Roland viene comunicato ben presto che Faith, loro figlia, è stata assassinata. Roland a questo punto ne ha la certezza, il detective gliel'ha appena detto. Sua figlia non c'è più, ma non solo. È ridotta così male che gli consigliano di non vederla. La famiglia di Faith è distrutta. Inoltre non ha idea di chi possa aver avuto un motivo per colpirla. I genitori di Faith non capiscono. E mentre tentano di accettare che qualcuno abbia desiderato e messo in atto la morte di loro figlia, i detective si tacciano all'appartamento. Mentre sono intenti a raccogliere prove sulla scena del delitto, notano vicino al corpo della vittima una bottiglia di rum vuota, sporca di sangue. Ed è così che le autorità pensano che quella bottiglia vuota, ritrovata vicino al corpo, possa essere l'arma del delitto. I detective quindi raccolgono un campione di sangue dalla bottiglia. Poi scoprono la traccia del massimo piacere di qualcuno, mischiata del sangue, proprio vicino al corpo di Faith. Gli investigatori sono convinti che quel DNA prelevato sulla scena del crimine appartenga all'assassino. Poi, in seguito durante l'autopsia, purtroppo si scoprirà che Faith ha subito violenza. Successivamente i detective notano qualcosa sul letto. È un messaggio scritto su una busta bianca tipica dei fast food. Sopra c'è scritto un messaggio, non sono una stupida troia gelosa. Tutto questo però è molto strano. Questo messaggio è stato lasciato dal colpevole? La scritta di per sé è enigmatica, ma l'elemento più interessante è quello che non c'è su quella busta. Perché quel messaggio si trova sopra al letto, vicino al corpo della vittima. C'è sangue dappertutto, ma lì dove è stato posato quel messaggio, di sangue non ce n'è neanche una goccia. Insomma, sembra che quel messaggio sia stato messo lì sul letto dopo il crimine. Gli investigatori pensano che la busta sia la chiave per identificare l'assassino. In quanto quel messaggio scritto sulla busta li induce a credere che quello non sia un delitto casuale. Si tratta di un attacco personale. Quel messaggio quindi viene studiato dai detective, perché sono convinti che possa dare informazioni dell'aggressore. La prima cosa che salta all'occhio è la grandezza delle lettere scritte. Quasi urlate. Sembra che la persona che ha scritto quel messaggio fosse molto arrabbiata con Faith in quel momento. In ogni caso, quell'elemento fa pensare senza ombra di dubbio che il colpevole sia qualcuno che conosca la ragazza. La polizia a questo punto è ansiosa e riporterà alla luce nuove piste. Quindi inizia ad interrogare tutte le amiche di Faith. A partire dalla ragazza che ha chiamato il 911, la sua coinquilina, Carina Rosario. Le due si sono incontrate durante il primo anno dell'università e sono diventate ben presto amiche. Stanno sempre insieme, sembrano quasi sorelle. Tutti dicono che quando vedono una delle due, poco dopo, compare anche l'altra. Insomma, sono davvero inseparabili. Carina è una ragazza molto educata, timidina, riservata, mentre Faith è una ragazza molto più estroversa. Probabilmente sono proprio questi opposti che le hanno unite così tanto. Così, con l'aiuto di Carina, la polizia ricostruisce la cronologia degli eventi della notte in cui Faith è venuta a mancare. Carina dice alla polizia che Faith, quel giorno, ha partecipato ad un evento in un edificio al di fuori del campus. Ma se ne è andata intorno alle 19, proprio per raggiungere Carina in biblioteca, col fine di lavorare insieme ad un compito. Le due ragazze verso le 19.30 escono dalla biblioteca per dirigersi verso casa. Però la serata non la passano a casa. Infatti, Carina racconta alla polizia che quella sera lei e Faith decidono di uscire per recarsi ad un locale, dove arrivano all'incirca per l'una e mezza di notte. A questo punto le ragazze si divertono un minimo, fanno quattro chiacchiere, bevono qualcosa, ma poi, di colpa, Carina non si sente bene e chiede a Faith di ritornare a casa con lei. Così, intorno alle 2 del mattino, le ragazze rincasano assieme. Il filmato di sorveglianza del locale conferma la versione di Carina, mostra le due ragazze arrivare al locale verso mezzanotte e 40 e andarsene per le 2.07. Carina quindi dice ai detective che a questo punto sono davvero rientrate a casa. E una volta arrivati a casa, Carina si è sentita così tanto male che ha anche iniziato a vomitare. Faith ovviamente mica se ne frega, sta con lei e rimane lì in bagno fino a quando Carina non inizia a sentirsi meglio. Poi Faith si recaletto, ma Carina no. Rimane ancora un po' in bagno per parlare, scrivere messaggi, fare telefonate. Passa chiaramente all'incirca un'ora e Carina a questo punto si sente davvero meglio. Quindi invia un messaggio ad un suo amico chiedendogli di andarla a prendere. Sono le 4.25 del mattino quando Carina lascia l'appartamento, ma non chiude a chiave la porta. In quanto hanno solo una copia e quella chiave c'è la Faith che però sta dormendo, quindi Carina non vuole svegliare la sua amica solo per dirle di chiudere la porta. Pensa non possa succedere niente di brutto, anche perché pensa di star via solo qualche ora. Quindi esce di casa, chiude la porta senza chiuderla a chiave e se ne va. Il colpevole quindi deve per forza essersi introdotto in casa dopo che Carina ne è uscita, quindi dopo le 4.30 del mattino. Il tempo passa, il sole sorge, arriviamo alla mattina seguente. Sono le 10. Carina telefona a Faith perché quella mattina dovrebbe consegnare una relazione, quindi la chiama perché vorrebbe che lei gliela porti, però non riceve risposta. Carina non è rientrata a casa da quando è uscita alle 4.30. È stata con il suo amico, ha fatto l'alba, ha provato a riposarsi con lui un paio d'ore e poi per le 10.00 si è ricordata della relazione che avrebbe dovuto consegnare. Carina è in questa situazione. Faith non risponde al telefono, il suo amico l'ha già salutata e se n'è andato. Questo vuol dire che non ha un modo per tornare nel suo appartamento, quindi chiede un passaggio ad una sua amica, Marisol, in modo da recuperare il compito e tornare al campus tranquillamente. Quando le due ragazze arrivano notano l'auto di Faith, è ancora parcheggiata fuori da casa, quindi credono che la ragazza stia ancora dormendo. Una volta entrati in casa provano a chiamare l'amica, che però non risponde. Le due ragazze quindi arrivano alla camera da letto, trovandola purtroppo senza vita. La sera del 7 settembre la tragica dipartita di Faith ha già fatto il giro di tutto il campus, ne parlano tutti i telegiornali. Yuna Cevis viene chiamata quella sera proprio da una sua amica, che l'avvisa, Faith non c'è più. Yuna ovviamente rimane senza parole, non ci crede, chiude la chiamata e prende immediatamente il computer per fare qualche ricerca. Ed ecco che tra le notizie appare la fotografia di Faith. Yuna apre quindi quegli articoli, li legge, ed è assolutamente incredula, non sa che fare, è devastata. La ragazza non si dà pace e continua a pensare a Faith e non riesce proprio a togliersela dalla testa, in quanto non ci crede che non l'avrebbe mai più rivista. Faith, che col suo sorriso rassicurante è riuscita a donarle un pochino di sicurezza. Yuna pensa, continua a pensare, e si ricorda di un particolare che crede possa tornare utile agli investigatori. Infatti Yuna si ricorda che Faith le ha lasciato un messaggio vocale in segreteria nel cuore della notte. Ma si sentiva solo una musica in sottofondo e una specie di fruscio, come se il microfono del cellulare stesse strusciando proprio su della stoffa. Insomma, la notte prima Yuna ha pensato che quello fosse un messaggio partito per sbaglio. Ecco perché l'ha cancellato. Ora però è in preda al panico, perché si rende conto che quel messaggio con quell'audio così distorto e con quel fruscio in sottofondo inascoltabile potrebbe rappresentare uno degli ultimi momenti in cui Faith è ancora in vita. Yuna non si dà pace, vuole trovare una soluzione, quindi chiama il suo operatore telefonico e un tecnico riesce a recuperare il messaggio che la ragazza aveva cancellato dalla segreteria telefonica. Yuna non perde tempo e consegna immediatamente le prove all'autorità. I detective ascoltano il messaggio alquanto distorto che gli ha consegnato Yuna e notano che la marca temporale indica l'1.23 del mattino, ora in cui Faith e Karina si trovavano al locale. Quella di conseguenza è una semplice chiamata partita inadvertitamente dal telefono di Faith mentre era con Karina nel locale a ballare. È una falsa pista, in pratica. In cerca di nuove prove la polizia ottiene un mandato per esaminare i tabulati telefonici di Faith ed è così che gli investigatori scoprono una pista alquanto promettente. Quando Faith e Karina erano ritornati a casa Faith, è vero, a un certo punto è tornata in camera sua ma non era andata a letto. Almeno non subito. Prima aveva mandato dei messaggi a due ragazze diversi. Così i detective convocano uno dei ragazzi per interrogarlo. Si chiama Brandon Edwards. Le autorità decidono di sentire prima lui perché a quanto pare è un amico stretto sia di Karina che di Faith. Il ragazzo lo ammette. Con Karina gli capitava anche di avere rapporti intimi. E in effetti quella notte Brandon ha ricevuto un messaggio proprio da Faith che diceva Ehi B, puoi passare da noi? Karina ha davvero bisogno di te. Capito? Fale capire che ci tieni a lei. Brandon a quel messaggio aveva risposto Chi sei? È chiaro che Brandon non aveva il numero di Faith salvato tra i contatti del telefono. Però questa cosa è strana perché non sono i miei amici molto stretti. E allora perché mai Brandon non ha il contatto di Faith salvato nella sua rubrica? Brandon in realtà dice alla polizia tranquillamente che lui ha passato la notte da Faith e da Karina ma la notte prima del delitto e ha dormito sul divano. Ammette anche che la sera del crimine si trovava nel locale in cui si trovavano anche Faith e Karina. Ma giura infine alla polizia di non centrare nulla con l'omicidio di Faith. Brandon però è un indiziato quindi la sua auto viene perquisita. Gli viene prelevato un campione di DNA. Ma la sua auto risulta posto. E i referti della scientifica stabiliscono che il DNA sulla scena del crimine non corrisponde al suo. A questo punto la polizia si concentra sull'ultima persona che ha ricevuto l'ultimo messaggio partito dal cellulare di Faith alle 3 e 43. Faith non invia quel messaggio a una persona qualunque ma al suo ex fidanzato, Ty McNeil. Il ragazzo è qualche anno avanti all'università rispetto a Faith. E diverse persone hanno detto chiaramente a Yuna, l'amica di Faith, che Ty è un ragazzo possessivo a dir poco. Se Faith si addormenta oppure per qualche motivo non risponde ai suoi messaggi, lui puntualmente si presenta al campus per vedere dove sia cosa stia facendo. Così le autorità convocano immediatamente Ty McNeil per interrogarlo. E quando arriva in centrale viene accolto dai visi familiari dei genitori di Faith che ovviamente ancora sono distrutti e piangono loro figlia. Il ragazzo fa le condoglianze a Connie e Roland. Poi Roland gli chiede quando abbia visto Faith l'ultima volta. Ty dice che Faith gli ha scritto un messaggio proprio la stessa mattina in cui è avvenuto il diritto dicendogli che teneva ancora lui, che era ancora innamorata e che credeva sarebbero dovuti tornare assieme. Ty però dice ai genitori di Faith che questa cosa gli è sembrata alquanto strana. In quanto in quel periodo non è che si siano frequentate chissà quanto. Anzi, a dirla tutta, ti sono proprio persi di vista. Quando Roland legge l'ultimo messaggio che Faith avrebbe mandato a Ty nota un errore di ortografia ed è da quell'errore che arriva a una conclusione. Quel messaggio non l'ha scritto Faith. Roland sa quanto sua figlia curi l'ortografia. Lo fa in modo quasi maniacale e quell'errore ortografico è abbastanza palese. Non è stata Faith a inviare quel messaggio anche se in effetti è partito dal suo cellulare. Ma vuol dire quindi che qualcuno ha preso il telefono di Faith per mandare quel messaggio al suo ex? E con che scopo? Ma soprattutto chi potrebbe essere? Ty McNeil viene interrogato dalla polizia e dichiara di non aver niente a che fare con la morte di Faith. Fornisce infatti spontaneamente un campione di DNA. Che però anche in questo caso non corrisponde con quello ritrovato sulla scena del crimine. Gli investigatori a questo punto giungono ad un punto morto. Quindi provano a rivolgersi agli amici più stretti di Faith e Karina in cerca di nuove informazioni. Così scoprono ben presto tra un interrogatorio e l'altro che Karina l'11 luglio quindi appena due mesi prima del delitto ha chiesto un'ordinanza restrittiva contro Eric Takoi Jones, il suo ex fidanzato. Karina infatti si è lasciata con Eric solo due mesi prima del delitto. In quanto quest'ultimo si è reintrodotto a casa di Karina e Faith con la forza sfondando sia le porte di ingresso che le porte delle varie camere. Quando aveva trovato Karina si era reso conto che aveva il telefono in mano. Quindi si era avvicinato, gliela aveva strappato dalle mani e poi l'aveva spinta a terra. Ma questo è solo un episodio. Quel ragazzo maltratta Karina in modi inconcepibili. La insulta e a Faith questa situazione proprio non piace. Insomma, quella è la sua migliore amica. Faith è sempre stata una ragazza molto generosa e protettiva nei confronti delle sue amiche. Quindi non riesce ad assistere a quella situazione senza intervenire, senza fare niente. È consapevole che forse mettersi in mezzo in situazioni simili sia pericoloso. Perché, insomma, credo sia necessario avere paura di un ragazzo che ti sfonda la porta perché lo molli. Va bene tutto, eh, ma sfondi le porte di casa? Ma tutto bene? Infatti è proprio Faith a convincere Karina a richiedere un'ordinanza restrittiva contro Eric. Da allora Eric ha iniziato a vedere Faith come un ostacolo alla sua relazione con Karina. Eric ha ripetuto molte volte, anche in pubblico, che Faith non avrebbe mai dovuto mettersi in mezzo nel rapporto tra lui e Karina. Faith inoltre ha confidato a degli amici che lui l'ha addirittura minacciata. Se non fosse riuscito a tornare con Karina, l'avrebbe fatta sparire. La polizia, peraltro, scopre che anche se Karina aveva chiesto un'ordinanza restrittiva, contro di lui serve ben poco perché quel ragazzo vive nello stesso complesso residenziale di Karina e Faith. Vive letteralmente a pochi edifici dalla scena del delitto. Inoltre Eric è stato in effetti il primo a recarsi sul posto, proprio quando ha notato le volanti della polizia. Quando è giunto sulla scena del crimine erano già presenti i sigilli. Così Eric aveva iniziato a guardarsi attorno per poi dirigersi dritto dritto verso dei giornalisti. Eric era stato l'unico ad essere intervistato davanti a casa di Karina e Faith. Il ragazzo dice alle telecamere Ebbene, è quanto strano che Eric dica ai giornalisti che Faith era una ragazza dolcissima. Stando agli amici di lei tutti sapevano che Eric la detestava. E invece Eric nelle interviste che rilascia dice un sacco di cose positive su Faith. La dipinge letteralmente come un angelo mentendo. Quindi quando gli amici di Faith vedono le sue interviste, non possono fare a meno di chiedersi Ma che ci fa a quello di raccontare quelle cose di Faith? Oltretutto i sospetti non fanno che aumentare Quando i detective riescono ad avere accesso ai dati digitali di Eric Taco e Jones. La polizia infatti scopre un inquietante post di Facebook Che Eric ha pubblicato il giorno prima del delitto. Per l'esattezza ha scritto Signore, perdonami per i miei peccati e per quelli che potrei commettere oggi. Proteggimi dalle ragazze che non mi meritano e da quelle che mi vorrebbero morto. Questo per le autorità è chiaramente un enorme campanello d'allarme. Gli investigatori quindi convocano Eric Taco e Jones per interrogarlo. I detective lo tartassano per ore. Gli fanno sempre le stesse domande. Perquisiscono la sua macchina, sequestrano alcuni documenti dal suo appartamento E alla fine gli prendono un campione di DNA. I detective indagano scrupolosamente su Eric Taco e Jones Perché sono convinti che sia lui colpevole. Ma alla fine non trovano nulla che lo colleghi al delitto di Faith. Inoltre di nuovo il suo DNA non corrisponde a quello trovato sulla scena del crimine. Quindi Eric non è mai stato arrestato, né incriminato, né considerato un indiziato. La polizia continua a imbattersi in un vicolo cieco dopo l'altro. Ed è a questo punto che l'indagine si blocca davvero. Col passare dei mesi, degli anni, l'assassino di Faith rimane libero. E dopo un paio di anni l'interesse dei media inizia anche a scemare. Ma la verità è che la polizia non ha mai smesso di indagare per scoprire chi sia colpevole. Per ravvivare l'interesse del pubblico, nel luglio del 2014, il dipartimento di polizia di Chapel Hill fa una mossa alquanto audace. Infatti decidono di rendere pubblici pile e pile di documenti riguardanti questo caso. Lo scopo delle autorità è quello di rendere noti gli elementi più importanti. Per poi evidenziare le problematiche del caso. Il caso, nonostante sia vecchio di due anni, riceve una grande copertura mediatica di nuovo. E fra tutte le informazioni che sono state diffuse, la più interessante è la chiamata che ha fatto Karina quando ha trovato Faith. Quella registrazione di quella telefonata in effetti contiene parecchie informazioni importanti, interessanti. Ed ora, le parole della migliore amica di Faith vengono scrupolosamente analizzate una ad una. Karina, nella sua chiamata al 911, dice Sono appena rientrata nel mio appartamento e ho trovato la mia amica priva di sensi. È in effetti strano che Karina usi le parole priva di sensi per descrivere lo stato di Faith. Come ho potuto pensare che fosse solo priva di sensi con tutto quel sangue che c'era? L'operatrice del 911 chiede a Karina Quindi la tua amica è priva di sensi? E Karina risponde Sì, esatto, sono appena rientrata nel mio appartamento e c'è sangue dappertutto. Altro elemento sospetto. Karina ripete in continuazione Sono appena rientrata nel mio appartamento. Dalle sue parole sembra che lei voglia mettere in chiaro il fatto che non era presente durante il tragico evento e non era coinvolta in nessun caso. La chiamata continua L'operatrice del 911 dice a Karina Ascoltami Karina però continua a parlare e risponde Deve essere entrato qualcuno in casa L'operatrice risponde Va bene E Karina continua Dico davvero, non riesco a credere ai miei occhi Deve essere per forza entrato qualcuno Altra domanda Karina vuole per caso puntualizzare tutti i costi che non è lei la colpevole? Altrimenti perché ripetere in continuazione che era entrato qualcuno in casa? Era abbastanza ovvia la cosa. Questi sono i dubbi che il pubblico americano e i giornalisti sollevano dopo aver analizzato per bene il contenuto di quella chiamata Secondo alcuni quindi Karina avrebbe esposto la sua teoria riguardo a ciò che è successo a Fate per allontanare i sospetti da sé Un'analisi ancora più approfondita della chiamata rivela alcune omissioni di Karina Prima cosa Karina non ha mai menzionato il nome di Fate Ha chiamato 911 perché ha ritrovato la sua amica senza vita Però non dice mai il suo nome Così come non dice mai è la mia coinquilina È come se in qualche modo voglia prendere le distanze dall'accaduto Però in questo caso è evidente ci sono molti particolari che non tornano E in questi casi il più piccolo particolare potrebbe rivelarsi importantissimo Ma ci sono anche altri dubbi che vengono sollevati Karina sostiene di essere ritornata a casa con una sua amica Ossia Marisol Ma in quella chiamata la voce di Marisol non si sente neanche per sbaglio In pratica non si capisce che anche lei sia lì presente Quando l'operatrice le dice a Karina Rimani con me fino a quando non arriva qualcuno Karina risponde Sì sì ok L'operatrice insiste e dice a Karina Non voglio assolutamente che tu stia sola E Karina continua dicendo Va bene va bene Eppure in teoria in quel momento Karina in casa non è mica da sola Però non facendo che in quel momento nella stanza ci sia anche qualcun altro Però c'è un'evidenza All'arrivo dell'autorità Marisol è in casa Quindi questa teoria è un po' traballa diciamocelo I familiari di Fate quando ascoltano quella telefonata E si convincono che quelle dette da Karina per la maggior parte sono bugie Ed è a questo punto che i detective iniziano a sospettare di Karina A dirla tutta tutti continuano anche ad avere dei sospetti sul suo ex fidanzato Eric Takoy Jones Quindi i detective riflettono su questo caso Cercano di venirne a capo per continuare l'indagine Per non arenarsi di nuovo E in effetti arrivano ad un risultato Al posto di pensare che solo uno dei due sia coinvolto Dovrebbero forse considerarli potenziali complici? Forse sì Per di più ora che ogni azione di Karina viene esaminata al microscopio Ogni prova fondamentale viene vista sotto una luce diversa Come il messaggio che le autorità hanno trovato scritto su quel sacchetto di carta A questo punto è chiaro Sembra essere stato scritto a seguito di una lite E la gente ben presto inizia a chiedersi se è possibile che quel messaggio L'abbia scritto Karina Con lei che è chiamato il 911 Però c'è una domanda Che non può assolutamente passare inosservata Perché mai Karina avrebbe voluto far fuori Fate? A detta di tutti le due sono migliori amiche Ed è a questo punto che Yuna si fa avanti E dice chiaramente che Fate Poco prima di venire a mancare Le aveva detto che tra lei e Karina C'erano delle tensioni Yuna sostiene che sa Che Fate non si sentiva più a suo agio Ad abitare con Karina in quell'appartamento Perché le aveva chiesto di andare a stare da lei Proprio pochi giorni prima del delitto In quel periodo Fate sembrava sempre stanca Stressata e inquieta Yuna a questo punto si chiede cosa possa essere successo di così grave Da averla fatta arrivare al punto Di non voler più vivere con Karina Per stabilire se Karina è l'autrice del messaggio Che è stato ritrovato sulla scena del crimine Bart Baggert Un perito graffologo Fa un confronto Il messaggio presente sulla scena del crimine Chiaramente è stato scritto di fretta Alcune lettere non sono collegate tra loro Sono disposte in modo disordinato Nel complesso si tratta di una graffia Dalla forma irregolare Disorganizzata Per cui l'autore di quel messaggio È una persona disorganizzata e imprecisa Quella non è una scrittura artefatta È chiaramente la scrittura abituale dell'individuo Che chiaramente era arrabbiato E ha scritto quel messaggio Senza prevedere che la graffia sarebbe stata analizzata E alla fine viene anche fuori Che quella graffia non appartiene sicuramente a Karina Però Karina continua ad essere presa di mira dall'opinione pubblica La ragazza purtroppo da questa esperienza Ne esce distrutta Deve superare il fatto di aver perso un'amica E di averla trovata lei stessa senza vita Ma non ci riesce Sta male per mesi E ahimè ogni volta che legge qualcosa Che si dice su di lei Sta ancora peggio Bisogna sottolineare che di base Karina è sempre stata collaborativa Durante le indagini La prima volta che è stata chiamata È rimasta alla centrale per ore e ore Le chiedevano una cosa Per poi richiedergliela Quattro ore dopo Per vedere se era in grado di dare La stessa risposta Karina in quell'occasione È riuscita a rispondere a mille domande Sempre nello stesso modo Senza mai cambiare versione Quindi forse avrebbe senso pensare Che questa ragazza davvero non c'entra nulla Con questo terribile delitto In effetti poi Karina vive un bruttissimo momento Soprattutto a causa dell'opinione pubblica Ma di fatto quella legge Non ha problemi Sì I detective la interrogano di nuovo La mettono sotto torchio Ma alla fine Non le fanno nulla Karina secondo i detective È stranea al delitto Ha solo trovato la sua amica senza vita Fine Passano altri due anni Due anni in cui le indagini Di nuovo rimangono ferme Ad un punto morto Fino al 2016 Quando il messaggio che Faith Ha lasciato in segreteria a Iuna La notte del delitto Finalmente viene analizzato Arlo West è un peritofonico E un informatico forense È venuta a conoscenza Del messaggio che Faith Ha lasciato a Iuna Nel gennaio del 2016 Ovviamente le autorità Gli chiedono di renderlo Un po' più comprensibile Il messaggio è fortemente distorto E ha un fortissimo rumore di fondo È sgradevole da ascoltare È irregolare e intermittente Il dialogo è molto discontinuo Le parole sono frammentate Arlo West riesce a pulire l'audio Elimina i rumori di fondo Le interferenze E migliora le qualità tonali Di quell'audio E dopo aver delineato l'audio E averlo sentito chiaramente Arlo non riesce a crederci Presume di avere in mano Una prova importantissima per il caso La prima cosa che nota Arlo È che in quell'audio Ci sono quattro voci distinte Due femminili E due maschili Si sente prima una voce femminile Che si lamenta E dice Oh mio Dio La mia testa Una seconda voce femminile Si aggiunge E dice sicura Fallo A questo punto si sente La prima voce Che riprende a lamentarsi E dice Aiutatemi Oh mio Dio Aiutatemi No no A questo punto si aggiunge Una voce maschile Che dice Penso stia morendo Poi ecco che si sente Di nuovo la seconda voce Ed è inferocita Dice Sono stanca Stai attenta che ti spacco la faccia Spari solo stupidate Sei una bugiarda E stai mentendo spudoratamente Non fare la stronza con me Arlo riesce anche a rilevare Due nomi Da quella registrazione Ossia Rosie Ed Eric E Rosie non potrebbe essere Il soprannome di Carina Rosario Mentre Eric potrebbe essere L'ex fidanzato di Carina Eric Takoy Jones Quando i familiari di Fate Ascoltano l'audio migliorato Di Harlow West Rimangono sbalorditi Perché a qualcun altro Quell'audio può sembrare Una cozzaglia di suoni Ma i parenti di Fate Riconoscono immediatamente La sua voce Capiscono che quella ragazza Che si lamenta è lei Ne sono certi La sorella di Fate Rolanda Dice chiaramente Che quell'audio L'ha ascoltato dall'inizio Alla fine Più e più volte E non ha alcun dubbio Si sente Fate Che chiede aiuto Roland Il padre di Fate Sostiene che la voce Rabbiosa della seconda ragazza È proprio di Carina Rosario In quanto conosce la sua voce Molto bene Era la migliore amica Della figlia Stavano sempre insieme Insomma Per Roland La ragazza arrabbiata Che invece contro Fate È proprio Carina Rosario Roland inoltre Conferma ad Harlow Che ogni tanto In effetti Usano i soprannumerosi Per riferirsi a Carina Rosario Dopo aver analizzato a fondo Il messaggio Harlow giunge ad una conclusione Quel messaggio È stato registrato Mentre Fate Veniva colpita Questa è una prova solida Però c'è la questione Della marca temporale Che segna L'1.23 E a quell'ora In teoria Fate Si trovava ancora nel locale Così Harlow Trovando questa incongruenza Così palese Inizia ad approfondire Ancora di più La situazione Per l'esattezza Fa delle ricerche Sulle marche temporali Dei cellulari In pratica Fate E la sua amica Yuna Hanno il cellulare Della stessa marca Sì Sono modelli diversi Ma entrambi Hanno problemi Con le stampe temporali Quindi Capita spesso Che i messaggi In segreteria Abbiano degli orari Sbagliati Le celle Che trasmettono Il segnale In pratica Sono a dir poco imprecise Harlow ne è convinto La marca temporale Di quel messaggio Forse È inesatta Però allo stesso tempo Quel messaggio È molto rivelatore E importante Quindi L'uomo comunica Le sue scoperte Alla pulizia di Chapel Hill Spera che la sua scoperta Possa segnare Una svolta del caso Ma quando i detective Ascoltano quel file audio Non credono che quella Sia la registrazione Nel delitto di Fate No Perché sono certi Che la marca temporale Che segna L'1.23 Sia corretta Forse quella Potrebbe trattarsi Di una lita Avvenuta prima Ma del crimine E anche io Mi sono chiesta Ma perché Non dopo Ragioniamo un attimo Le telecamere Di questo locale Hanno immortellato Le ragazze Entrare ed uscire E siamo sicuri Che sono uscite Da quel locale Alle 2.07 Sono tornate a casa Va bene Carina è stata male Ok Ma dalle 2.07 Ma dalle 2.07 Alle 4.30 Orario in cui Carina è uscita Con un suo amico Lasciando pure la porta aperta Ci passano ben Due ore e mezza E questo buco temporale Non lo calcoliamo? No Le autorità non lo calcolano Dopo aver liquidato Questo messaggio audio I detective Si concentrano Sull'altra prova Sperando di riuscire A rivelare L'assassino di Fate Si rivolgono dunque Ad una società Che impiega una tecnica Chiamata Finotipizzazione In cui si prende un campione Di un DNA Per poi trasformarla In un'immagine 3D Del sospettato Consente di determinare Svariate caratteristiche fisiche Che potrebbe avere Quell'individuo Come ad esempio Il colore della pelle Degli occhi E anche dei capelli Questo è a tutti gli effetti Un identikit Prodotto dalla scienza Ma la fenotipizzazione È una tecnica nuova Quindi Ancora signora Quanto sia realmente accurata Maggiori saranno i progressi Fatti nel campo della genetica Più questa tecnica Diventerà affidabile Più di un mese dopo L'identikit 3D Del presunto assassino Di Fate È pronto La fenotipizzazione Ha stabilito Che l'uomo a cui appartiene Il campione di DNA Ha pelle olivastra Capelli scuri E occhi color nocciola E infine È una persona Di origini ispaniche La maggior parte Degli uomini interrogati A cui la polizia Ha preso Un campione di DNA Non Erano ispanici Dopo la pubblicazione Dell'identikit In effetti C'è stato un aumento Di segnalazioni Che i detective Hanno controllato Una per una Ma malgrado Questo importante sviluppo Non sono stati annunciati Nuovi indiziati Sono passati molti anni E purtroppo le autorità Ancora non sono riusciti A far luce su questo caso Caso chiuso dunque Stiamo parlando di un cold case? No Le autorità Stanno ancora indagando Per scoprire Chi sia il colpevole Anche se Secondo me È alquanto assurdo Il fatto che ci siano stati Dei tempi Così tanto estesi È assurdo Far analizzare Un messaggio in segreteria Essenziale per il caso Quattro anni Dopo il delitto Forse non l'hanno ritenuto importante Probabile Ma è una controllatina Quella audio Gliel'avrei fatta fare subito A mio parere Alcuni elementi Di questo caso Sono stati presi Troppo sotto gamba Troppo alla leggera Secondo me Non sono state fatte Le dovute indagini per tempo Hanno prelevato DNA destra e sinistra Tipo Hanno raccolto Un qualcosa come 1500 campioni di DNA Ma non hanno trovato Nessuno Hanno trovato una bottiglia Di rum vuota Sulla scena del crimine E hanno concluso Che quella è l'arma del delitto Quindi che cosa abbiamo In questo caso Beh c'è una scena del crimine C'è l'arma del delitto Poi c'è un DNA sconosciuto Un messaggio alquanto strano E aggressivo E delle indagini Ancora in corso Comunque A mio avviso Ripeto A mio avviso Sembra che questo caso Sia stato costruito Sulle sabbie mobili Ma voi Fatemi sapere Quello che pensate Detto questo ragazzi Spero che questo video Possa essere stato di vostro gradimento Fatemi sapere Per l'appunto Quello che volete Qui sotto nei commenti Riguardo questo caso Noi ci vediamo prestissimo Nel prossimo video Vi mando Un bacione Mi raccomando Fate i bravi E continuate a mangiare le verdure Che continuano a far bene Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi